Volevo ringraziare il prefetto russo per aver convocato questo ottavo che mi ha consentito di parlare con tutti i prefetti della Puglia. Una riunione sul lavoro ordinario, non sugli eventi straordinari che pure si verificano, perché la Regione Puglia a luglio ha approvato delle linee guida che sono così innovative sulla sicurezza del lavoro ed anche sulla sicurezza degli atti di violenza, che sono stati pubblicati di recente su una rivista scientifica molto importante, che hanno bisogno di protocolli attuativi che consentono, per farla breve, di accorciare i tempi di intervento delle forze dell'ordine, ma quando c'è necessità, senza disturbarle inutilmente. È evidente che la sicurezza si può garantire con le forze di polizia, ma va anche garantita con una progettazione delle strutture diverse. Purtroppo non è previsto nelle linee guida di progettazione degli ospedali nessun tipo di investimento sulla prevenzione degli atti di violenza e quindi bisogna farlo con i mezzi di cui si dispone. Il passo successivo sarà quello di far incontrare tutti i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere con i prefetti di ciascuna provincia per cominciare a stendere le linee guida che le ASL dovranno strutturare entro il 30 ottobre e che poi daranno vita ai protocolli di intesa con le forze di polizia. Dopodiché dobbiamo renderci conto che la prevenzione della violenza e del crimine in generale non è un'attività umana così semplice come alle volte si suppone, nel senso che solo nei film di fantascienza c'è la prevenzione del crimine prima che esso avvenga. dopodiché le forze di polizia assicurano nel limite dell'umanamente possibile la difesa del cittadino e assicurano prove e responsabili in modo da consentire alla giustizia di giudicarle. Questo è il nostro sistema e quindi io voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i prefetti, i questori, le forze di polizia per il contributo che danno alla tutela delle nostre centinaia e centinaia di sedi sanitari. Noi abbiamo più di 40 mila dipendenti, 45 mila dipendenti, tutti potenzialmente a rischio, come però sono a rischio gli impiegati dei comuni, gli insegnanti a scuola, perché c'è sempre una ragione per perdere il controllo e per impedire l'esercizio di pubbliche funzioni e noi interveremo per quanto di competenza nella maniera più idonea. Quindi un ringraziamento a tutti i prefetti, ai questori, alle forze di polizia per quanto fanno a tutela dei nostri dipendenti. Le strutture maggiormente a rischio in Puglia sono probabilmente le guardie mediche e i pronto soccorso. Dopodiché è evidente che se alla scuola di specializzazione in medicina d'urgenza non si è iscritto nessuno quest'anno al Policlinico di Bari, ci sarà pure una ragione. Noi facciamo una fatica tremenda a trovare medici disponibili ad andare a lavorare in pronto soccorso proprio perché si tratta di un lavoro duro, complicato, rischioso e che peraltro non consente l'attività libero professionale, nel senso che un medico di pronto soccorso non ha lo studio privato. E questo significa dedicare un'intera vita, come hanno fatto Vito Procacci e tanti altri, che come lui e prima di lui hanno fatto questo lavoro per vocazione. Però le vocazioni ovviamente non consentono di completare gli organici come vorremmo. Quindi dobbiamo anche fare in modo che gli stipendi di chi lavora in un pronto soccorso siano molto più elevati di quelli degli altri medici perché è un lavoro a più alto rischio e comunque per il quale abbiamo bisogno di incentivare le vocazioni anche attraverso l'aumento delle retribuzioni. Il quadro è un quadro sostanzialmente sotto controllo molto seguito da parte delle forze di polizia. C'è stata un'ulteriore sensibilizzazione dopo l'ultimo episodio di cui siamo tutti a conoscenza, un'ulteriore sensibilizzazione ma proprio perché è molto alta come l'è stata sempre molto alta. Insomma è che effettivamente bisogna guardare anche all'ordinarietà di purtroppo situazioni che si possono verificare nei punti cruciali soprattutto come anche diceva il Presidente soprattutto quando riguarda i pronti soccorso e le guardie mediche. E questo è l'obiettivo. Stiamo lavorando insieme, stiamo facendo un lavoro che prevede anche a seguito delle linee guida regionale con la delibera di giunta di luglio. La regione ha portato tutta una serie di indicazioni per le direzioni generali. Noi stiamo già lavorando con le direzioni generali, abbiamo già individuato insieme delle soluzioni. E proprio questo è il punto che riguarda la security. Cioè quello di cercare di intervenire il prima possibile. Prima ancora che si verifichi le vendite. Non è facile però attraverso una serie di, questo poi lo valuteremo insieme, chiaramente noi abbiamo già individuato delle soluzioni. Praticamente cercare in modo di mettere in grado le forze di polizia di intervenire laddove ci siano degli elementi di pericolo in modo tale da poter dare anche una sensazione di maggiore sicurezza ai medici. Indubbiamo soprattutto quelli che stanno in situazioni più complicate, ripeto, fronti soccorsi e guardie mediche, si possano sentire un attimino più tranquilli. È un lavoro che sta procedendo. Tutti i colleghi che erano qui presenti con me oggi hanno rappresentato appunto che abbiamo già fatto, ma diciamo anche prima degli ultimi episodi. Noi è storico questo lavoro perché purtroppo c'è questa situazione un paio d'anni che alcuni punti della sanità sono più a rischio, quindi noi ci abbiamo sempre lavorato sopra. Adesso stiamo affinando e perfezionando. alla luce anche di quelli che sono le ultime interventi della regione, stiamo cercando di perfezionare sempre di più questo momento di garanzia e di sicurezza per gli operatori sanitari.